Sospiri, oggi lanciato una sorta di SOS istituzionale, SOS Abruzzo, tutto legato alla posizione del Presidente D'Alfonso Neoletto al Senato. Cosa appunto dite in questo SOS? Diciamo che l'Abruzzo non può stare otto mesi legittimamente fermo senza poter approvare nessuna legge o nessuna delibera regionale. Presidente D'Alfonso ha la possibilità di scegliere se fare il senatore o il Presidente della Regione. È stato eletto legittimamente e questa è una sua prerogativa. Se opta per fare il senatore, dalla fine di aprile decadrà dal suo ruolo di Presidente, ovvero di consigliere regionale. Questo impedirà alla Regione Abruzzo di avere la piena operatività sia nel suo Consiglio regionale per fare leggi che risolvano i problemi della gente, sia della sua giunta. Quindi ci sarà un insieme di persone che saranno lì a prendere uno stipendio senza poter fare nulla. Ma questo noi non lo permetteremo. Non è legittimo, non è giusto per l'Abruzzo. E pertanto l'Abruzzo il 14 d'ottobre, che è la tempistica puntuale, giungerà al voto. E quando lui parla, D'Alfonso parla, che attenderà la convalida degli eletti, sa di dire una sciocchezza giuridica. Perché il senatore tale dall'atto in cui viene proclamato, fine mese, tant'è vero che D'Alfonso sarà chiamato, qualora restasse senatore, ad eleggere il Presidente del Senato. Pertanto è un senatore, pertanto è incompatibile con il ruolo di Presidente. Ma vi pare normale tenere l'Abruzzo otto mesi senza poter approvare neanche uno straccio di legge? Il candidato alla presidenza della Regione sarà di Forza Italia o della Lega? Guardi, noi abbiamo uomini e donne veramente all'altezza di questo compito, selezionato dopo tante sfide amministrative, vinte e perse, che hanno fatto sempre il loro dovere. Toccherà al coordinatore regionale senatore Pagano riunire la coalizione e far prevalere le nostre ragioni senza prepotenze su un dato di merito e di efficienza che siamo certi riusciremo a far prevalere.